La Toscana si è stretta attorno alla comunità di Niccioleta nel comune di Massa Marittima nel 75esimo anniversario della strage nazifascista avvenuta il 13 e 14 giugno 1944 in cui furono fucilati 83 minatori. Nelle immagini vedete la cerimonia a cui ha partecipato il presidente della regione Enrico Rossi che ha risposto all'appello del sindaco di Massa Marittima Marcello Giuntini dicendo che la regione darà il proprio contributo di idee e finanziario alla costruzione di un luogo della memoria a Niccioleta. Questi 83 lavoratori hanno tutti un nome eppure un nome ce l'ha a chi ha compiuto questo delitto, questa strage è il nazifascismo che aveva un progetto di dominio su tutta l'Europa e che se avesse vinto avrebbe trasformato il continente in una dittatura di concentramento senza libertà. La strage di Niccioleta, paese di minatori, avvenne a poche ore da alcune azioni partigiane che avvennero nella zona e colpì al cuore la comunità. Il messaggio che i martiri di Niccioleta ci hanno lasciato è un messaggio universale è la difesa del posto di lavoro, è la difesa dei valori costituzionali. È un messaggio che a distanza di 75 anni non ha perso di efficacia, non ha perso di attualità e di importanza. In tanti hanno partecipato alla commemorazione dell'Eccidio per contribuire a tenere viva la memoria di quei fatti. Riteniamo che la memoria sia fondamentale non solo per l'identità di una popolazione ma perché ricordare è il migliore e più efficace antidoto contro la possibilità che la barbarie possa ripresentarsi. Grazie.